Si chiama Gesti da condividere, alvia la campagna di comunicazione sociale sulla tutela dell'ambiente realizzata dalle associazioni con il CSV Abruzzo. Pulire dai rifiuti la spiaggia tenendola pulita per sé e per chi verrà, utilizzare una borraccia per evitare che ulteriore plastica vada in discarica, piantare un fiore contribuendo alla biodiversità, spegnere interruttore per consumare e inquinare meno, utilizzare la bici al posto dell'auto o dello scooter, avere cura dei beni culturali, un patrimonio di tutti. Sono i sei gesti da condividere su cui si basa la campagna di comunicazione sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio ambientale. Quest'anno questa campagna ha una particolarità perché si rivolge all'ambiente, alla salvaguardia in qualche maniera dell'ambiente, con alcuni gesti semplici che tutti quanti possiamo mettere in atto per far sì che questo ambiente venga un po' più protetto. Voi sapete benissimo che si parla di sostenibilità. Noi come CSV ci interessa la sostenibilità integrale, quindi quella che va sia sull'ambiente ma anche sui rapporti tra le persone, con i fornitori, con la cittadinanza. Questo è un modo, almeno per quello che abbiamo potuto vedere nel tempo, di avvicinare i cittadini a cose semplici che possono ottenere invece nel tempo grandi risultati. A partire da oggi, per circa un mese, la campagna sarà veicolata fisicamente attraverso fissioni 6x3 locandine nelle quattro province abruzzesi e virtualmente tramite i principali social media. La campagna è stata presentata oggi a Teramo, ma riguarda tutta la regione Abruzzo. Assolutamente sì, da quando siamo diventati regionali, e cioè dal 2020, tutte le cose che facciamo, piano piano, stanno diventando sempre più aperte a tutta la regione. E questa è un'altra novità, se così posso permettermi, perché il fatto di essere aperte a tutta la regione significa mettere in contatto tra di loro tante associazioni che magari non si conoscevano, se non di nome, qualche volta neanche di nome, e creare tra loro relazioni e rapporti che possono creare attività e progetti che in un primo momento magari erano impensabili. Grazie. Grazie.